Tre vittime in Calabria con altri 145 nuovi casi. La regione intanto da domani apre agli over 40 le vaccinazioni booster senza dosi. Il governatore Occhiuto spinge la profilassi e annuncia in caso di aumento della pressione sui nostri ospedali scatteranno restrizioni ma solo per i non-vax. Lo ha detto a chiare lettere Roberto Occhiuto, presidente della regione e commissario della Sanità calabrese. Sale intanto in queste ore in tutto il paese il pressing di regioni e scienziati sul governo per accelerare, sul Green Pass rafforzato per contenere l'aumento dei contagi. D'altra parte quella che si chiude ieri è la terza settimana di fila che ha registrato un più 20% di morti. Ieri 9.709 nuovi positivi, 46 le vittime, il tasso di positività e al 2% aumentati i ricoveri in terapia intensiva. Dilaga intanto la quarta ondata per quanto riguarda il Covid-19 in tutta Italia. Scontri tra manifestanti e polizia durante la protesta contro le misure anti-Covid a Bruxelles, 40 arresti e feriti in Olanda dopo la seconda notte di rivolte violente.